Si è fatta la storia, si è fatta la storia dell'arte, per cui gli artigiani diventano artisti e espongono insieme a tanti artisti del passato illustri. Sì, infatti il fatto di esporre le opere degli artigiani, dell'arte contemporanea dentro il Palazzo Ducale è un messaggio importante che noi abbiamo voluto fare anche nell'anno delle celebrazioni come amministrazione proprio collegando una mostra di artisti contemporanei. Non richiamare solo gli artisti che ci sono stati, che hanno fatto la storia come ho detto prima, però costruire il presente guardando a quello che ci hanno lasciato i nostri antenati perché sicuramente sono antenati illustri, appunto quest'anno sono le celebrazioni di Federico da Montefeltro che ha lasciato tanto alla città di Urbino ma credo al nostro territorio e tutto il nostro paese e anche oltre. È un grande onore poter esporre per la prima volta il Palazzo Ducale di Urbino, è un grande onore per la Confartigianato ma con la consapevolezza che sono racchiuse le migliori opere dei nostri maestri artigiani, un patrimonio da non dilapidare, anzi da valorizzare e è l'obiettivo di questa iniziativa, creare una rete di imprese tramite la Via Maestra, il progetto di Confartigianato Impresa Ancona a Pesore Urbino che ha come obiettivo la valorizzazione del saper fare dei nostri maestri artigiani e del territorio nel contesto più suggestivo e unico della nostra regione e quindi per noi è una grande importanza questa giornata questa inaugurazione sia della mostra che il convegno che parla di artigianato e di valore artigiano. Qui conserviamo alcune testimonianze straordinarie di che cosa significa l'arte nel senso di artigianato e se ci concentriamo davanti alle pareti dello studiolo dove l'intaglio, questa straordinaria tecnica dell'intaglio delle prospettive che rappresentano appunto questo studiolo meraviglioso realizzate nella metà del 400 ci fanno anche capire quanto l'altissimo artigianato sia in realtà una eccezionale dimostrazione del saper fare e quindi anche del fare arte.